Ciao a tutti ragazzi, vedete la sua notizia di fiducia in Minecraft e questo qua è un golem, siamo in creativo ovviamente Perchè? Non si può dare il numero cole, non si può dare il numero cole Ci craftiamo, un bel castellino Tutto fatto di questa strana roba Ciotoli, sono i ciotoli di zio Queste Siamo andate un pochino più veloce gente Così la velocizziamo un po' Due Eccola No, eh Non roppetemi il cazzo Lo facciamo di 4 Adesso io lo sto facendo di 2 Da quello che vedo ci vorranno tipo un paio di episodi Intanto là c'è il golem Tipo 2 Adesso faccio di 3 Parecchio alto eh Forse di 4 Siamo... Siamo di un poco Non rovinarmi il video Ecco vedi l'ho rovinato Siamo di un pochino La regola è O smettiti subito il telefono O che la prossima volta non te lo do È pronto a mangiare? Nessuno YouTube c'è la mamma che dice le cose E' per questo che sono un po' mati di fiducia Ben creativa questa qui è una nuova serie Inizierò Ovviamente con gli aggiornamenti è rovinata Perfetto Il video ragazzi è quasi terminato Perché Fica che... Cascino Però non è appena valsa la pena Perché abbiamo costruito il nostro... Castello Non è finito soltanto con le tori Al castello gente Ecco Non fa una cosa tipo Così Che Mi ha dato un pochino Più figo E' uno schifo gente Ma dopo Sarà una bellezza Arrivo Ecco E' un po' così Io vi lascio Mentre intanto Voi lo state già vedendo Ma io adesso no Caricherò il video Ciao